Dal 27 novembre fino al giorno della Befana ritornano i mercatini natalizi organizzati dalle Proloco di Pesaro e Urbino. Il Natale che non ti aspetti, è questo il nome dell'evento che avvolgerà il centro Italia con la magia del Natale e alla sua presentazione, avvenuta oggi a Palazzo Leopardi di Ancona, erano presenti gli assessori regionali Aguzzi e Baldelli e il presidente dell'Unione Proloco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartocetti. È un grande evento che va avanti da tanti anni, ha chiaramente destagionalizzato il periodo invernale e quindi abbiamo portato, voglio parlare dei numeri perché fino a quando l'abbiamo fatto in presenza avevamo 260.000 turisti, più di oltre 300 pullman da tutta Italia e anche dall'estero e un indotto economico straordinario e importante. Il Natale che non ti aspetti è un evento creato, e ci tengo a ribadirlo, da tutti i volontari delle Proloco della provincia di Pesaro e Urbino. Un evento che prima è nato solo nella provincia di Pesaro e Urbino, ora si sta allargando a tutte le marche. È un evento che oramai è diventato l'evento d'eccellenza del centro Italia, dove oramai ci viene riconosciuto anche dai tour operator Lombardi, Veneti, ma comunque da tutta Italia un interesse veramente importante. E a volte ci spaventa questa cosa perché realizzato dai volontari, costruito e mantenuto dai volontari è diventato veramente un evento di importanza e di rilevanza nazionale e lo scorso anno abbiamo avuto contatti da tutto il mondo, abbiamo avuto contatti dagli Emirati Arabi, da New York, con l'edizione digital, che ci ha portato questo a crescere ancora di più gli eventi natalisti e grazie alla Regione Marche che oggi siamo qua a presentare questo bellissimo evento ci rende veramente orgogliosi. Un viaggio incantato con tanti appuntamenti tra le meravigliose località che vanno dal mare Adriatico al Monte Feltro. Si parte con E Natale a Monbaroccio passando per Candela Candelara e arrivando a Cioccovisciola di Pergola, passando poi per Gradara con il Castello di Natale, a Urbino con le vie dei Presepi e a Orciano con Viviamo il Natale. E poi ancora con Il Natale più di Fano e nel Castello di Babbo Natale di Frontone, ma anche tanti altri appuntamenti che addobberanno le vie di Piobbico, Montecchio, Sant'Angelo Illizzola, Sant'Ippolito, Fratterosa, Macerata, Feltria, Cagli, Fermignano, Mondolfo, Urbagna, Montemaggiore, Fossombrone. Le proloco in questo senso hanno fatto sì in questi anni di destare una grande attenzione sulle iniziative che vengono portate avanti, magari storicamente, inizialmente isolate da singoli comuni, singole attività o singole proloco, invece racchiusi in un'unica iniziativa molto significativa che racchiude 25 esperienze e 25 proloco diverse suddivide su molti comuni della provincia di Pesaro. Questo ha fatto sì che diversi di queste iniziative ormai sono, diciamo così, ad un livello, io direi perlomeno nazionale, ma oserei dire anche in qualche caso internazionale perché spesso provengono anche da fuori nazione oltre che da fuori regione dei turisti appositamente per questo tipo di iniziative. Il filo conduttore è Bolzano. Bolzano perché? Perché Bolzano ci ha seguito attentamente e siamo rimasti colpiti da quello che loro ci hanno detto, che stiamo facendo un lavoro superiore a loro, contando che siamo tutti volontari, e insieme il 2 e il 3 di dicembre firmeremo un protocollo di intesa tra Bolzano, l'azienda di soggiorno di Bolzano e i mercatini del centro Italia, che sono i nostri, che sono i nostri della regione Marche, perché oramai possiamo parlare tranquillamente di regione Marche.